Renato ha trovato un appartamento piccolo, ma grazioso e poco costoso, in cui andare ad abitare con la sua ragazza. Per ambe due è il primo distacco dalla casa dei genitori. Sono entusiasti e innamorati. Oggi si sono messi gli abiti da lavoro, hanno preso la macchina e sono andati a indiancare la casa. La dipingeranno in rosa, pistacchio e panna, in omaggio all'estate e alla gioia di poter vivere insieme. Renato ha addosso un paio di vecchi jeans e una maglietta sbruccita. Susanna, la ragazza, porta una canocchiera e una graziosa salopette nera scartata da sua sorella. Verso sera gli abiti dei ragazzi sono tutti picchiettati di schizzi, rosa, pistacchio e panna. Alle sette suona il cellulare di Renato. È Paolo, un amico caro che fa l'attore. Ho dei biglietti che io mangio per stasera il mio teatro. Vi va di venire? Eh, sì. Però noi siamo alla casa a imbiancare. Beh, manca un'ora, ce la fate. Poi si mangia una pizza dopo lo spettacolo. Sì, ma siamo vestiti da lavoro. Dovremmo andare a casa a cambiarci, ma non c'è tempo. Beh, che fa? Chi vi vede penserà che è una nuova moda. Ecco, questa è la storiella e adesso vi leggo che cosa hanno risposto i visitatori del sito. Dunque, per cominciare c'è una citazione da un libro di buone maniere, quella la metto sempre io. E poi ci sono gli interventi appunto dei visitatori. Il libro di buone maniere è The Ladies Book of Manners, è un libro dell'Ottocento che dice L'attenzione alla persona è la prima esigenza delle buone maniere. Perciò fa sì che la tua stessa persona sia di lezione. Curare e adornare la propria persona è un dovere sociale, oltre che individuale. Può essere un tuo diritto quello di andare in giro con le mani e il volto sudici, ma non hai il diritto di offendere la sensibilità degli altri mostrando in società queste mani, questo volto e quegli abiti. Invece Elena Trabaldi ha osservato La scelta dipende da molte cose, prima fra tutte dal tipo di teatro. Posto che i personaggi del racconto sono giovani e che il tipo di teatro sarà più o meno off, penso che alla fine opteranno giustamente per il sì. Il discorso sarebbe senz'altro diverso se si trattasse di andare in un solido teatro borghese. C'è poi il fattore età. Salvo qualche super libero o super snob che non si fa problemi, tutti noi miseri mortali ci sentiremmo a disagio e finiremmo per rovinarci lo spettacolo. Invece Francesca Tabvei ha scritto I due ragazzi non possono presentarsi così in teatro, non tanto per gli schizzi sui vestiti, quelli alla fine è quasi il meno, quanto perché saranno sicuramente sudati e per questo non presentabili. La cosa fondamentale quindi, se vogliono andare a teatro, è disporre di una doccia o almeno di un lavandino funzionante. Ammettiamo che la casa nuova abbia già l'allacciamento all'acqua e quindi questa parte sia risolvibile. devono allora trovare rapidamente una maglietta pulita. Le alternative sono due. Uno, nell'isolato si trova un negozio di abbigliamento, un supermarket, una merceria dove acquistarla. Due, sul percorso tra la casa e il teatro abita, e in quel momento è in casa, un amico disposto a prestare loro un paio di vestiti puliti. Se invece la casa nuova non ha ancora l'acqua corrente, non resta che sperare che l'amico, lungo il percorso, oltre ai vestiti, metta a disposizione anche il bagno. E per finire, Rosa ha dato la risposta più spiritosa. Alla fine andarono a teatro, anche se, avendogli il loro amico invitati all'ultimo, non avevano altro che i loro vestiti dai bianchini della domenica. Lo spettacolo non era forse di quelli straformali, e loro, avendo nel tempo, in nessun caso si sarebbero messi su come ad una sfilata di moda, o in stile star del cinema. Però, lo stesso, gli abiti da lavoro rimanevano abiti da lavoro. Ed ecco l'idea. Lei si lavò i capelli e poi li arrangiò in un delizioso chignon di lato. Lui, non sapendo bene cosa fare con i suoi di capelli, dopo uno shampoo, ci passò sopra una buona mano di gel. Con la testa a posto, si dissero, siamo già a buon punto per la serata teatro. Avevano i pennelli e si misero a disegnare sulle magliette. Ognuno pittò in grande un logo sulla maglietta, sul pantalone e sulla gonna, la A di Armani, piuttosto che la B di un Valentino. E vai! A teatro, lo spettacolo, erano loro. E via questo. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.